Sarà beato Don Giuseppe Rossi ucciso in odio alla fede da una squadra di fascisti il 26 febbraio 1945 a Castiglione d'Ossola, piccolo paese della Valle Anzasca sotto il Monte Rosa, di cui era parroco e dove le sue spoglie ora riposano. Classe 1912 era prete in Val d'Ossola quando, a pochi mesi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, la Valle divenne teatro di un duro scontro tra partigiani e fascisti che provocò numerosi morti e feriti Per vendetta i militi della Brigata Nera Ettore Muti di Ravenna, tra le più crudeli e anticlericali, scatenarono una rappresaglia contro la popolazione. Don Giuseppe fu sequestrato, costretto a scavarsi la fossa a mani nude, per poi essere massacrato dai miliziani fascisti e finito con un colpo d'arma da fuoco. E sempre in odio alla fede, ma a causa della persecuzione comunista, morì il seminarista slovacco di 37 anni Jan Avlik, appartenente missionari di San Vincenzo dei Paoli, arrestato nel 51 con i suoi superiori e altri seminaristi, interrogato e torturato, quindi condannato a 14 anni di carcere e lavori forzati che ne minarono la salute fisica e psichica fino a portarlo alla morte il 27 dicembre del 65.